Si sospetta che viva ancora in questo posto! Guarda, Safik! Oh, mamma! È reale! L'hai visto? Ho appena visto Cartoon Dog correre dentro! Avete sentito? C'è Cartoon Dog da qualche parte ed è molto vicino! Allora, alzati, alzati, alzati! Che succede, Safik? Il nostro campo è stato attaccato da Cartoon Dog! Ragazzi, ma prima di andare alla ricerca di Cartoon Dog, Maria Fedoretti vuole dirci una cosa molto importante! Molto tempo fa, Cartoon Dog era il suo cane! Molto tempo fa vivevo in questo luogo con tutta la mia famiglia e avevamo un bravo cagnolino di nome Rex! L'ho preso ancora piccolo da cucciolo! Cioè, Cartoon Dog era un normale cane e tu l'hai trovato nel tuo villaggio? Beh, sì, che l'avrebbe mai pensato, davvero! Accidenti, ma è sicuro che c'è Cartoon Dog? Questa donna dice che era vicino a una fattoria che si trovava vicino al suo villaggio! Cartoon Dog è sicuramente qui! Perché avete bisogno di questo Cartoon Dog, ragazzi? Bruno, impara già a controllare Cartoon Cat! Altrimenti non ti chiameremo più per questi video, capisci? Artiom, Cartoon Cat non è così facile da tenere tranquillo, capisci? Va bene, andiamo! Ciao a tutti cari amici, con voi Arishnir! Con me oggi... Voi Leon Bruno e Cartoon Cat! E Safi con 1, 2, 3, 4! Siamo venuti con i ragazzi per catturare Cartoon Dog! Cerchiamo ora di guardarci intorno il più rapidamente possibile, proviamo a cercare le tracce di Cartoon Dog! Bene, dai, facciamo il campo! Siamo venuti qui in questa fattoria abbandonata nel cuore della notte! Puoi, per favore, comportarti meglio con i miei amici? In generale non mi piace essere qui con voi! Dai, Cartoon Cat! In generale ragazzi, l'unico motivo per cui siamo venuti qui nel cuore della notte è perché un follower mi ha contattato e mi ha raccontato la storia di questa nonna che viveva in questi posti e lei stessa ha visto personalmente e sa da dove viene... Cartoon Dog! Si sospetta che viva ancora in questo posto! Pazzesco e pericoloso qui! In qualsiasi momento puoi cadere! Ascolta, proviamo ad andare in un altro pienile! A quanto ho capito, questa è una fattoria abbandonata, ma c'è ancora un villaggio nelle vicinanze! Questa nonna ce l'ha detto! Questo posto è stato abbandonato dagli umani molto tempo fa! Qui vedete, questi muri stanno già cadendo! Ci saranno almeno dieci di queste fattorie! Tutta una dietro l'altra! Ce ne sono davvero molte qui! Sul drone abbiamo, semmai ragazzi, un sistema di visione notturna! E io e ragazzi abbiamo per una ragione... Safi! Dannazione! Adesso proviamo a sistemarti la campo! Non farlo, non farlo, non farlo! Non toccarla, per favore! Non è successo ragazzi, eh? Safi che è saltato, ha appoggiato il piede male e si è distorto la caviglia! Hai una frattura o pensi sia una distorsione? No, ma non lo so, cavolo! Fa male, cade! Ascoltate ragazzi, è già molto buio e persino il cielo è di un colore molto strano! Facciamo così! Io porto Safi al campo e per ora tu Bruno esaminerai tutta questa zona, ok? O forse invece Artyom ci andrà e io, Bruno e Safi che osserveremo! Cos'è, hai paura? Un'altra parola su di me! Quando Cartoon Dog attaccherà allora lo combatterai da solo, hai capito? Va bene, va bene ragazzi, voi andate al campo e io vado a fare un giro della zona! Dai Artyom, accompagna Safi che stai attento però! Eh, piano, piano, piano! Safi, allora capisco che ti fa male la gamba ma dobbiamo far volare il drone il prima possibile e vedere come sta Bruno insomma! Sì, lo so, dobbiamo, andiamo subito, iniziamo! Nel nostro villaggio è stato costruito vicino un impianto chimico! Beh, all'inizio eravamo felici, c'era lavoro, ma poi scorreva un fiume lì! L'impianto chimico non sa tutto, scaricava tutto quanto lì, roba chimica! Cioè la fabbrica non filtrava nulla, gettava tutto in un fiume vicino al tuo villaggio, insomma? Sì, ma va bene, la gente lo sapeva, ma gli animali certamente no, non lo sanno mica che il fiume è blenato! Anche il mio cucciolo Rex non lo sapeva, ha bevuto l'acqua e entrò da casa, tutto sporco, occhi rossi, respiravo affiantito! Ho cercato di curarlo, ma niente da fare, ha smesso di respirare e l'ho sopelito! Io pensavo personalmente che Cartoon Dog fosse stato creato dall'SCP durante i loro esperimenti, ma si è scoperto che non è apparso in modo del tutto naturale, ma attraverso alcune mutazioni! Ragazzi, abbiamo già lanciato il drone e ora vedremo cosa c'è in questa fattoria! Vedete qui? Ecco, ecco, ecco! Laggiù è giallo, è visibile! Ehi, mi vedete? Sì, 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 ti vediamo! Ok ragazzi, non mi lasciate fuori dalla vostra vista! Spero che almeno sul drone l'immagine sia chiara, perché almeno lì c'è una modalità di visione notturna! Va bene, ora diamo un'occhiata a cosa c'è qui! Ragazzi, c'è una fattoria molto grande e non posso credere che Cartoon Dog viva qui da qualche parte! Non ho idea se questa nonna ci abbia detto la verità o meno, ma Bruno ha almeno una possibilità, perché ha dentro i poteri dentro di Cartoon Cat! Qui abbiamo solo un mucchio di hangar! Guardate, qui c'era un villaggio molto grande apparentemente perché abbiamo questo primo edificio, vedete, poi c'è il secondo edificio, poi il terzo! E guardate, c'è un territorio il più grande possibile! Sono anche tutti interconnessi, guarda, c'è un edificio a forma di H, c'è un territorio il più grande possibile e nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio! Villaggio! Sì, guardate, la strada va proprio lì, insomma! Cioè, le persone vivono in questo paesello con le case a tre piani, è possibile che non vengano nemmeno qui, praticamente! A quanto pare la padrona di Cartoon Dog ci ha parlato di questo! Ecco, è il loro paese, probabilmente non nemmeno un comune, ma un villaggio, una frazione, insomma, e apparentemente vivevano lì prima le persone! Guarda, le finestre sono piene di tavole, lo vedi? Da questi mostri bisogna spesso essere difesi, quindi è chiaro che qui è tutto pieno di assi, safi! Guardate lassù, sono i ragazzi che volano, per ora vedrò cosa c'è qui! Gente, se non sbaglio, questo è il segno del fondo SCP, quindi significa siamo arrivati alle giuste coordinate e qui accadono davvero cose paranormali! Va bene, allora andiamo avanti, ma spero davvero che questa sia la base abbandonata dei compattenti SCP, perché se sono qui, non sono sicuro che possiamo gestirli! Ecco un altro edificio, apparentemente era l'unità di controllo principale a giudicare da questa grande facciata! Saffik, guarda un po', c'è qualcosa come se... che cos'è questo? È il disegno di una persona! Sai cos'è? È come se qualcuno fosse stato ucciso e il suo cadavere fosse stato tracciato! Ascolta Bruno, pronto? Sei qui in contatto? Sì, sono qui! Ascolta, io e Saffik abbiamo trovato qualcosa di molto sospetto, penso che ti interesserà sicuramente! È a nord-ovest, puoi andare per favore? I ragazzi dicono che c'è una traccia di un cadavere da qualche parte a nord-ovest, dai andiamo a dare un'occhiata, è davvero così o forse è soltanto un'impressione dal drone? Bene, penso che sarà più chiaro da terra! Pazzesco! Incredibile ragazzi, qui a quanto pare uno dei combattenti SCP è morto e qualcuno ha disegnato il contorno del suo corpo con il gesso per segnare la scena del crimine! Ascolta ma controlla i cespugni nelle vicinanze, forse c'è qualcos'altro, delle armi, qualcosa di utile! Controllare se ci sono armi? Forse sì! Bellezze, ecco i pantaloncini di qualcuno! Non sono sicuro che siano di un combattente SCP ma va bene, quella è una piccola collina, sembra che ci sia anche lì qualcosa! Ragazzi, ecco un segno SCP! Ora proverò a strapparlo per mostrarlo ai ragazzi, per dare uno sguardo da vicino! Ah, cavoli! Dannazione, ok? Che segnali forti fanno oggigiorno! Ma qui chiaramente prima vivevano esattamente dei combattenti SCP! Voglio dirvi una cosa, stiamo per derubare la fondazione SCP! Ma non so davvero se sia sicuro, solo un'allusione! Se dimostrate che volete vedere questo video e se riuscite a mettere 50.000 commenti sotto questo video, qualsiasi, assolutamente qualsiasi, tutti possono scrivere almeno 100, anche 200! Quindi in questo caso, se 50.000 commenti ci saranno, ruberemo per davvero la base della fondazione SCP! E chi lo sa che cosa troveremo lì? La SCP ci nasconde molte cose! Penso che sicuramente non gli piacerà! Ok, vado avanti a fare un sopralluogo del territorio! Br... Bruno! Stai entrando lì dentro? Controllo cosa c'è qui, guarda! Ok, stai il più attento possibile! Bene, cosa posso dire ragazzi? Ho esaminato completamente questo blocco principale! Ci sono molte stanze, ma sono tutte simili tra loro! E la cosa più interessante è quella soffitta! Ma non so che cosa c'è da vedere da questa parte! E non c'è modo di arrampicarmi lì! Quindi andrò avanti! È davvero pericoloso essere fuori dalla zona del drone in questo momento! Quindi voglio che i ragazzi mi vedano costantemente! C'è un altro segno di SCP! Ha trovato un altro segno! È pieno di segni qui! Allora, allora, lo vedi? È laggiù, è proprio nel campo! Ragazzi, questo è il segno della fondazione SCP! Bruno, va bene! Noi andiamo avanti! Vediamo dove è il palazzo! Tu stai attento, va bene? Guarda a proposito! Che strano muro di cemento! Si nota davvero solo un muro di cemento? Ragazzi, guardate questa cosa! Bruno, ascolta! Stai cercando di avvicinarti un po' a sud-est? Sembra che ci sia una pittura rupestre sul tetto di Cartoon Dog! Dai, bene, messaggio ricevuto! Ora vado a dare un'occhiata più da vicino! Accidenti, raga, guardate! È almeno cinque volte più grande di me! Eccomi, sono qui ed ecco Cartoon Dog! Basta guardare le dimensioni di William Bruno e questo gigante disegno di Cartoon Dog! Che aspetto ha da paura! Ragazzi, guardate queste zanne! Terrificante, semplicemente! Lo sguardo dell'assassino! Cartoon Cat, smettila! È solo un disegno! Cartoon Dog! Cartoon Cat, smettila! Capite che Cartoon Cat ha paura di Cartoon Dog! Evidentemente è un cane! Ho paura di... Non ho paura di niente! Accidenti, quanto è difficile controllarlo! Beh, posso gestirlo! C'è qualcos'altro qui, ragazzi! C'è qualcosa scritto qui! Dice... Non filmatemi! Ascolta, quindi possiamo smettere di filmare forse allora? Questo al cento per cento deve essere mostrato ai nostri follower! Non per niente hanno raccolto centocinquantamila like! Va bene, forse devo scendere! Guarda, ci sono altre iscrizioni! È solo qualcuno che l'ha scritto! No, Stapic, c'è sicuramente qualcosa scritto proprio lì! Ti sento! Era delizioso! Muori! S.O.S. Dov'è la mia nonna? Gente, a quanto pare stiamo parlando di quella padrona che ha allevato Cartoon Dog! Più precisamente quel cane Rex, prima ancora, che diventasse Cartoon Dog! Facciamo un po' di attenzione, perché vedete, ci sono spazi molto grandi e se Cartoon Dog mi trova qui sarà davvero difficile per me nascondermi da lui qui! Ci sono delle corde qui! Forse qui qualcuno è stato legato a questo palo! Spero di sbagliarmi! Ma questo... Capite questo cos'è vero! Questi sono davvero i pezzi delle auto! E se sapete, anche come sono le auto normali hanno il volante a sinistra, sì? E a giudicare dal fatto che il volante era proprio al centro questa era un'auto militare! Perché nelle auto militari che il volante è al centro? Apparentemente Cartoon Dog stava devastando tutte le attrezzature militari così tanto che i dettagli dei loro carri armati volavano dappertutto! Si può anche notare che soltanto gli AK-47 possono lasciare questi buchi! Vediamo che cosa c'è dentro! Dai! E adesso guardiamo, ragazzi! Qualcuno davvero vive qui! O almeno ci ha vissuto prima! È davvero il campo di qualcuno! Qui guardate, ragazzi! Qui c'è un sacco a pelo, alcuni accessori militari Anche il cibo è rimasto! Ecco, riprendi! Questo è ciò che mi hanno mangiato i militari! Non sono sicuro che siano stati militari ma in questi luoghi di solito vivono solo loro le persone più coraggiose Quindi vedete che bel salamino affettato del formaggio da panini ancora classico e il pane Dobbiamo informare subito i ragazzi! Dai, perché non possiamo stare qui? E quando andiamo dai ragazzi diciamo che non abbiamo trovato nulla e ce ne andiamo a casa! Senti, ti comporti in modo molto strano Sei sicuro di stare bene? Sì, niente! Sto bene! Sono troppo pigro per girovagare per queste case abbandonate con te Preferirei dormire a casa Dopotutto io sono un gatto! Ok, ti ho capito! Potresti smettere di distrarmi? Ci sono ancora un po' di appunti su questo taccuino Vediamo cosa ha lasciato qui un residente di questo campo C'è una data qui 13 agosto anno 2021 È più di un paio di anni fa Io e Sergio abbiamo pedinato questo cane per due giorni Si tratta di Cartoon Dog o cosa? Ma finora, a parte le tracce non abbiamo trovato nulla di buono Ma siamo sicuri che questa bestia sia qui da qualche parte Ieri sera abbiamo sentito i cani abbaiare Forse Cartoon Dog può comunicare con altri cani Ragazzi, questa è una supposizione molto interessante Ciò significa che Cartoon Dog può agire insieme ad altri cani Domani proveremo ad entrare nell'edificio Forse si nasconde lì Mi chiedo in quale edificio un residente di questo campo voleva intrupolarsi 14 agosto, il giorno dopo Sergio, cosa dirò alla tua famiglia? Mamma Santa, Cartoon Dog è qui Perché l'abbiamo cercato? Sergio è morto Questa creatura lo ha trascinato in profondità nell'edificio Sembra che sia stato un dramma incredibile Continuo a leggere È già buio Domani all'alba cercherò di andarmene da qui Di notte non si vede niente Quindi aspetterò al campo E questa è stata l'ultima scritta in questo taccuino È stato scritto due anni fa Il 14 agosto Sembra proprio che Cartoon Dog sia un cane davvero pericoloso Due giorni dopo sono uscite di casa Volevo insomma vedere dove aveva sbalto il cucciolino E lì la tompe è stata scavata E il resto non c'era più Cerco una settimana dopo La gente è iniziata a scomparire nel nostro villaggio Quasi ogni giorno Praticamente tutti gli abitanti erano spaventati Qualcuno ha lasciato il villaggio Ma qualcuno è rimasto Ascolta Cartoon Cat Sai qualcosa su Cartoon Dog? Beh in generale Io e questo Cartoon Dog Abbiamo una faida molto antica Ad essere onesti Cartoon Dog è molto più forte di me E il fatto che gli scienziati mi hanno creato Ma lui è nato dopo essersi bevuto Acqua avvelenata con sostanze chimiche È meglio stare lontano da lui Bruno Perché attacca immediatamente Senza pensare Io almeno penso prima di attaccare Ho capito Ma spero che i ragazzi adesso stiano tutti bene Sai è abbastanza probabile che Io sento l'odore di Cartoon Dog da molto tempo Il problema è che il suo odore è dappertutto Non riesco a determinare dove si trovi E allora che cosa serve i Cartoon Cat? Ok andiamo a cercarci da soli la soluzione Troveremo questo Cartoon Dog subito Gente mi sembra che questa sia la casa giusta Beh dove la gente viveva? C'è un territorio il più grande possibile E nelle vicinanze c'è anche un piccolo villaggio Qui abbiamo solo un mucchio di hangar Safik guarda un po' Guarda un po' c'è qualcosa come se... Capizione Capisco che c'è Cartoon Cat dentro di lui Ma Cartoon Dog è follemente forte Probabilmente il più forte dei mostri SCP E nelmeno sicuramente più forte di Cartoon Cat E ancora qualche mese dopo di notte Ho sentito un grido così selvaggio per strada Le persone sono saldate fuori dal legno Sono corse a vedere cosa stava succedendo E così sono uscita pure io Guardo e questo è il mio Rex Su due gambe gigantesco Spaventoso nero E a stare le persone Mi sono spaventata E mi sono nascosta immediatamente Per un'ora ho udito questo urla E poi la pace e il silenzio Ho sentito qualcuno entra in casa La porta si apre E entra il mio Rex Mi sono bloccata Si è voltato ed è uscito Così Sei sicura che fosse proprio il tuo Rex Che non è solo una coincidenza Che Rex è scomparso E Cartoon Dog è arrivato? Beh mi hai visto Ma non mi ha fatto niente Quindi questo è il mio Rex In effetti ora tutto questo villaggio Nessuno vive lì È abbandonato E tutti se ne sono andati da lì Perché è apparso Cartoon Dog Giusto? Beh penso proprio di sì Sto rischiando un po' la vita Perché sono entrato nell'edificio Dove si è perso Sergio E se dobbiamo credere a questi documenti Allora questo edificio è abitato da Cartoon Dog Qui vedo un lungo e buio corridoio Vi posso dire che sicuramente non vorrei vivere qui Bene per fortuna che il walkie talkie ha una torcia elettrica Senza questo walkie talkie non so cosa farei Mi sembra di dover dare un'occhiata più da vicino a questa stanza Sì lo sapevo Guardate questo è chiaramente Cartoon Dog E queste sono le sue note malvagie Non puoi allontanarti da me Cartoon Dog O forse tu non puoi allontanarti da me Arriverò da te Hai capito? Ascolta Cartoon Cat E perché Cartoon Dog avrebbe deciso di vivere in questa catapecchia? In città è molto più confortevole vivere Lì ma lui è un cane Quindi vive in questo postaccio abbandonato E in effetti ci sono molti animali da mangiare Non è necessario che ci siano solo persone no? Sai se vivesse in città Sarebbe stato catturato dalle autorità già molto tempo fa E lui questo lo sa Ecco perché si nasconde qui Quindi se sta vivendo qui fuori città Perché ha attaccato il villaggio di questa nonna? Si tratta delle mutazioni In quel momento aveva appena iniziato a trasformarsi in Cartoon Dog Ed è stato in quel momento che il cervello si è spento del tutto E agito solo sulla base degli istinti Ascolta ti racconto ancora un po' di più Non devi combattere con lui E' meglio scappare e il più lontano possibile Perché non mi ascolti proprio eh Sto dicendo che Cartoon Dog è molto più forte di me E io e te non possiamo assolutamente batterlo Va bene vado a dare un'altra occhiata Ci sono sicuramente molte altre cose interessanti Guarda Safik Ma è... Reale? L'hai visto? Appena visto Cartoon Dog correre lì dentro E lì c'è anche William Bruno Bruno c'è Cartoon Cat nel tuo edificio Bruno non avere paura faremo sicuramente qualcosa Capito dai Accidenti Penso che a nessuno importi se Cartoon Cat sta gestendo un po' il corpo di William Bruno ora Perché ora è davvero pericoloso Vediamo guardiamo cosa c'è qui L'istinto pelino Mi chiama proprio qui in questa stanza Ecco qui quello che stavo cercando Guardate ragazzi questa valigetta è chiaramente molto vecchia Vediamo cosa c'è qui Eccolo Eccolo Dov'è cosa? Non l'hai visto fuori dalla finestra Bruno abbiamo appena visto sbirciare fuori dalla finestra Cartoon Dog Questi sono documenti Anzioni mi sentite da qualche parte c'è Cartoon Dog ed è molto avvicino Ok leggiamo cosa c'è qui Record del 1984 3 maggio Campione 231 in condizioni stabili Sembra che parlino di Cartoon Dog 13 giugno dello stesso anno Frazioni dell'attività cerebrale Aumento dell'appetito Significa che Cartoon Dog ha iniziato a impazzire Cosa c'è dopo? Accidenti Questo è Cartoon Dog Proprio qui vicino Aumento del livello di aggressività da parte del campione Più personale richiesto al centro scientifico E anche personale armato per il trasporto del campione Livello di pericolo rosso Sono urgentemente necessari Tranquillanti del complesso scientifico principale Possibile fuga di informazioni Sembra che non fosse proprio una fattoria Era una fattoria sotto copertura Quindi questi segni di SCP Foundation Erano ovunque Proprio perché non era una fattoria C'era una base Di SCP Con base Si atti Accidenti Ehi Cartoon Dog È scomparso Ho semplicemente inagguato E vuole attaccarmi da qualche angolo inaspettato Dov'è questo Cartoon Dog? Porterò questi documenti con me Sembra che il periodo lo sia passato Cartoon Cat Allora non puoi semplicemente entrare nel mio corpo quando vuoi Accidenti In questo momento In questo edificio c'era Cartoon Accidenti Bruno In soccorso SOS Siamo attaccati da Cartoon Dog Presto Io in Shafik Aiuto Ricevuto Corro subito Anti-home Sto correndo Presto Ragazzi Mamma mia Ragazzi dove siete ragazzi? Questo Cartoon Dog ha rubato i nostri amici Anti-home tu sei qui Anti-home Spero che i ragazzi siano ancora vivi Allora Accidenti Un sacco di pulsanti iscriviti E portano in direzioni diverse Destra Sinistra Sembra che Cartoon Dog stia cercando di confondermi le idee Cartoon Cat dimmi Dove porta la traccia di Cartoon Dog? Accidenti Troppi odori diversi Ho già perso la traccia Non capisco dove sia Sì e allora qual è la tua utilità allora? Ok So chi può davvero aiutarmi ora Sei tu So che non sapevi di essere un vero eroe Ma questo è esattamente il momento in cui vale la pena scoprire i tuoi superpoteri Capisco che sembra folle Ma se premi il pulsante iscriviti Mi mostrerà quale dei pulsanti iscriviti è falso E quale dei pulsanti iscriviti invece è reale Dovete capire che Cartoon Dog è scappato nella direzione in cui portano i pulsanti grigi di iscrizione E per capire quale di questi pulsanti diventerà grigio Devi fare click sul pulsante iscriviti sotto il video in questo momento E poi sapremo dove sono i miei amici grazie a te E poi proveremo a salvarli Dai Fai click sul pulsante rosso di iscrizione Credo che tu mi aiuterai a salvare i nostri ragazzi Fantastico sapevo che ce l'avresti fatta Grazie mille per il pulsante grigio iscriviti E ora so esattamente dove devo andare a salvare i ragazzi Amici sto arrivando a salvarvi Dannazione Safik Ehi Safik Safik Sei vivo Safik Dai Safik Insomma dai rispondi Che sta succedendo? Qui c'è il Cartoon Dog Dai alzati 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 Che succede Safik? Il nostro campo è stato attaccato da Cartoon Dog Artyom e io abbiamo iniziato a correre Ma a causa della mia gamba non siamo riusciti a scappare Non so dove sia Artyom Cartoon Dog vi avrebbe comunque raggiunto Non è colpa tua Safik Artyom Accidenti Artyom è da quella parte Dobbiamo salvarlo subito Ciao a tutti cari amici Arisniep è con voi Il mondo non ha mai visto un video così Con tanto carisma E per i 4 milioni uscirà un nuovo video Lo spam è finito Io sono Safik 1,2,3,4 Ragazzi oggi siamo tornati al centro per bambini Penso che tutti abbiano visto il video In cui siamo qui correndo prima dal sole FNAF E poi dalla luna NAF Perché di notte ci sono dei veri animatronici in questo posto Ma questa volta Safik e io ci siamo preparati E noi abbiamo deciso di giocare al nascondino mimetico con la luna Guardate abbiamo portato con noi queste tute mimetiche Possiamo indossarle completamente in questo modo E nasconderci con lo stesso colore Credetemi è un modo incredibilmente mimetico per nascondersi Hai notato Safik? Ah 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 Ecco ragazzi questo funziona veramente Il nostro compito attirare specificamente il sole Per far finta che vogliamo giocare con lui Quindi spegnere bruscamente le luci in modo che appaia la luna E già con lei indossare questi costumi mimetici E giocare al nascondino mimetico in tutto questo enorme centro per bambini Safik nasconde tutte mimetiche E ora cercheremo il sole e lo faremo giocare con noi Sole dove sei? Ti sto aspettando Sole Scusaci per l'ultima volta Non sapevamo di non poter spegnere le luci Va bene per favore vieni Nel formaggio non c'è Ho guardato ovunque Bene sole smettila di scherzare Non possiamo cercarti qui tutta la notte L'unico posto nel quale ancora non ho guardato è su quei trampolini Ragazzi Safik guarda Pazzesco cos'ha in mano? Mi chiedo se posso prenderlo con le mani Penso che sia possibile Artyom guarda ha dei pulsanti grigi scriviti quindi molti probabilmente li ama Allora ragazzi dovete aiutarci voi Qui c'è scritto sono andato a prendere il pulsante grigi A quanto pare questo è ciò che lo può attirare Ragazzi per favore capovolgete il telefono in questo momento O fate qualcosa sul computer Andate sotto questo video E se avete un pulsante rosso Assicuratevi di premerlo e renderlo grigio Così possiamo chiamare il sole FNAF Per giocare al nascondino con lui Bene andiamo Uno Due Tre Oh grazie mille Beh un mucchio di pulsante grigi Sole dove sei? Dovrebbe essere proprio qui Da lì si udiva una risata Come l'ultima volta si nasconderà Andiamo lì Oh ciao Senti Sì Siamo venuti qui Ricordi che hai mostrato dei giochi diversi Puoi mostrarceli di nuovo Quindi siete davvero venuti a giocare con me Pensavo fosse una specie di trucco E foste venuti per spegnere le luci Così la luna apparisse No 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 Ma quale trucco? Vero sappic? Sì siamo venuti a giocare Sì Ora per un po' facciamo giocare il sole Poi dovremo spegnere la luce in osservati quando sarà distratto Hai capito? E prima di questo lanciamo qualcosa così lo raccoglie Sì 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 Bene dai giochiamo Oh Vai Mamma mia come faccio a fare punto Ed è fatto autogol ragazzi Sìììi Bravo Ora tocca a me Incredibile Non ha guardato nemmeno verso il cesto E ha fatto centro Ascolta Una volta ho provato questo scivolo E adesso ho paura Non aver paura è tutto molto sicuro Beh se è sicuro va bene allora Bene come va ti stai già divertendo? Spero davvero che ti stia divertendo molto Ma c'è qualcosa di meno estremo Certo fammi vedere Sei sicuro che sia più sicuro? Certo Spero che ti diverti Artyom Ma ti stai divertendo molto? Oh oh va bene fermi aspettate Oh queste attrazioni sono troppo estreme Artyom no Artyom iniziamo subito con il piano B Sfargiamo i giocattoli lui inizierà a raccoglierli Spegniamo le luci e appare la luna E così giocheremo a nascondino mimetico Io non ce la faccio più sono stanco ragazzi E ora noi abbiamo trovato questo posto Venite qua tutti e due Forza No no uscite di lì Perché ci siete entrati? Oh signore che casino Dobbiamo andarcile subito Ci piacciono questi giochi Artyom dobbiamo correre a spegnere le luci in questo momento Mentre è impegnato a pulire Bene E come stacchiamo la luce? Bisogna alzare le torce contemporaneamente Stai scherzando? Sì te lo dico io Funziona Forza Uno Due Tre Non ci credo Fatto Fatto tutto Pulito tutto Ragazzi ragazzi Dove siete? Ragazzi Sapete che non potete spegnere le luci È la regola principale Una regola Non spegnere le luci Cattivi ragazzi Vi avevo avvertito Di non spegnere le luci Di non spegnerle Probabilmente Si è già trasformata Da qualche parte Là Abbiamo urgenti Bisogna indossare tutte le mimetiche Andiamo Dove vi siete cacciati? Io vi troverò Artyom E adesso? Battuto secondo il nostro piano Ascolta attentamente Tu ed io abbiamo giocato con il sole Ma non appena la luce si è spenta Il sole è diventato una luna malvagia Cattivo ragazzo Cattivo ragazzo Devi andare a letto Devi essere punito Sì E cosa facciamo adesso con luna? Giocheremo a nascondino mimetico con lei Cioè Cioè Se luna ci insegue Possiamo semplicemente sederci o sdraiarci sul nostro colore Ed evaporare per lei Cattivo ragazzo Cattivo ragazzo Cattivo ragazzo Devi andare a letto Esattamente Suffick Sembra Che sarà molto divertente E il generatore? Le batterie? Ci sono 5 generatori sulla mappa Oltre a 3 batterie per ognuno di noi Dobbiamo avviarli in modo che la luce si riaccenda E le batterie servono per mantenere le energie della torcia C'è anche una regola speciale E una regola segreta Ed è una regola per i nostri spettatori Siamo d'accordo ragazzi Che se la luna non ci cattura Metterete 100.000 mi piace sotto questo video È molto ma sono sicuro che ce la farete Esatto Sembra che tutto sia chiaro Ragazzi avete capito tutto? Sì Bene allora andiamo Dove sono i costumi Artyom? Guarda Uno Due Tre Fatto I costumi sono già su di noi Corriamo per accendere i generatori e nasconderci Andiamo Dove è il generatore? Come lo trovo? Accidenti c'è la luna proprio lì Io so che siete qui da qualche parte Venite da me Dobbiamo spegnere la torcia Spero che il camuffamento funzioni Cattivo ragazzo Cattivo ragazzo Devi andare a dormire Devi essere punito piccolo Mamma mia I costumi funzionano Possiamo girare in sicurezza per tutto il parco giochi Artyom Non avere paura Sto cercando il generatore Accidenti Non fare luce per favore Ma sei pazzo a spaventarmi così tanto? Qui c'è un generatore sulla mappa Proprio nel formaggio Eccomi sono qui a cercarlo Va bene vado avanti Non mi avete notato neanche voi ragazzi Se qualcuno mi ha notato Scrivetelo nei commenti Ok seguitemi Andiamo a cercare il generatore Deve essere qui da qualche parte La mappa non sbaglia Oh Oh Eccolo qui il generatore ragazzi Dobbiamo avviarlo Andiamo Uno Due Tre Oh È partito Dobbiamo andare a cercare il resto Nessuno No La tuta funziona per mimetizzarsi Quindi ragazzi Non possiamo perdere un minuto E dobbiamo cercare altri generatori Il generatore è al sicuro qui Dove sono i ragazzi Devono essere trovati Non devono arrivare al generatore Devono essere puniti Questo costume è fantastico Puoi nasconderti assolutamente ovunque Ci sono un sacco di colori E quindi ce l'ho fatta Ragazzi È così che mi mimetizzo E nessuno mi trova al cento per cento Ancora più interessante Ho sentito la luna Diceva Il generatore è al sicuro Quindi è qui da qualche parte Non pensavo che sarebbe stato così facile La cosa principale è non cadere nelle palline E non affogare Ecco Tutto ciò che resta È raggiungerlo da questo bordo Non è chiaro quale sia la profondità qua Funziona Ok Mi tufferò E uscirò dall'altra parte del parco Artyom Sei tu? Per forza E chi altro ha questo costume rosso? Bene Allora hai trovato almeno un generatore? Ascolta La luna mi ha quasi beccato Ma grazie a Dio Non mi ha visto E così ho potuto accendere un generatore Anche io ho accesso un generatore Accidenti Artyom Ho la torcia che si scarica Quindi è necessario cercare urgentemente le batterie Se la luce scompare non possiamo trovare i generatori nell'oscurità totale Che cos'è? C'è un bagliore Qualcosa che gira Mamma mia Che cos'è? Cosa dobbiamo fare? Non capisco Siamo nel gioco Apparentemente è un bonus Forse è una specie di occhiali O ci daranno un'arma in più Semplicemente tocchiamolo Dai Fantastico Ho cambiato colore Avevo il rosso E ora ho il colore blu Apparentemente era una pillola che cambiava colore E il mio viola è semplicemente fantastico Ascolta Ora possiamo sicuramente battere la luna Prima abbiamo un colore Poi un altro Poi un terzo Probabilmente si è già confusa Artyom Ecco la batteria per la mia torcia Sì La tua torcia si sta scaricando È molto più utile a te Quindi prendila Correrò a cercare il generatore Ok Anche io Quindi ragazzi Deve esserci un generatore proprio qui da qualche parte Nei trampolini Non sono ancora stato qui Devo guardare bene Eccolo Accidenti È stato così semplice È proprio qui Ora lo accendo E ci sarà un secondo generatore sul mio conto Posso persino superare Artyom Ragazzi Luna deve essere proprio qui Sento che i ragazzi cattivi sono qui Allora Devo nascondermi da qualche parte È rosa Lì rosa non mi sta bene Giallo Blu Accidenti Non c'è affatto il viola qui Devo nascondere più velocemente da qualche parte Ok 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 Penso di avere un'idea geniale Ragazzi Ci sono molti colori diversi in questa enorme piscina di cubi E c'è anche il viola È perfetto per me Se salto dritto in questo mucchio di cubi Allora Non mi vedrà Beh Spero che non mi veda Comunque Non ho altra scelta Uno Due Arrivo Tre Devo essere molto tranquillo E stare fermo Altrimenti Mi becherà Uno Due Tre Tutto è a posto Con il generatore Non sembra esserci nessuno qui Ma dobbiamo comunque controllare tutto E trovare questi ragazzi cattivi Dove possono essere? Sembra che non ci sia nessuno In questo buco di dadi Dove devo guardare ancora? Wow Ragazzi Mi ha quasi visto Non resta che uscire da qui Raggiungere il generatore E accenderlo Uno Due Tre Si è acceso Dobbiamo andarcene Ecco là il generatore E in cima Al labirinto Non ho idea Di come possa arrivare Lassopra L'unica opzione È andare là Nel profondo di questo labirinto E salire fino in cima Sono intrappolato La torcia La torcia È completamente scarica C'è poco blu qua Cavoli Solo il soffitto E se la luna arriva qua Mi troverà immediatamente Ma non c'è altra opzione Quindi devo arrivare a questo generatore Questo è Babbo Natale Bene Non si vede nulla Con questa torcia scarica Qui puoi perderti Sono delle vere catacombe Ma questa È come l'acqua del deserto Ora La inserirò nella torcia Forza Forza Oh Ha funzionato Oh Mamma mia Questa è la luna Chiedete lei sopra il vetro Quindi non è un pericolo Capite Proverrei a sfidarla Ma non lo farò È troppo Oh Oh È troppo rischioso Ragazzi È al terzo piano Lì c'è anche il generatore E ora Troveremo un modo Per aggirarla È al terzo piano Il generatore Deve essere qui Da qualche parte Bambini cattivi Dove siete? Fantastico Se non ci fosse stato Questo quadrato blu Mi avrebbe beccato sicuramente Sarebbe stato Game over E allora mi avrebbe finito Generatore Generatore Ma che Ecco Ragazzi È il secondo Mettiamolo in moto Cosa succede? Mi chiedo Sai che sa Fic abbia avuto questo problema Aiuto Accidenti Sono rimasto Sto bloccato Non mi scapperai La luna Si è incastrata Mentre incastrata È necessario trovare rapidamente Il generatore Dove può essere? Oh Oh Il generatore Ok Uno Due Tre Che succede? Uno Due Tre Non funziona Accidenti Ma qual è il problema? Probabilmente Devo scoprirlo D'Artyom Artyom Dove sappi che è? Oh Che c'è qua? Sono io Il mio generatore Non si avvia Un problema simile Non capisco che succede Oggi ho provato a farlo partire In tutti i modi Ma nulla Bene Ma questi sono gli ultimi due Ascolta Se questi sono gli ultimi Due generatori Forse devono essere Avviati contemporaneamente Dai proviamo Solo precisamente Contiamo Uno Due Tre Va bene Artyom Sono in posizione Dai Suffick Dai Uno Due Tre Fantastico Si è acceso Ha funzionato La luce è tornata E dov'è il sole? Ragazzi Non pensavo Nemmeno poteste fregarmi così E che Volevamo davvero tanto Giocare a nascondire Mimmetico Con la luna Molto bello Ma ora giochiamo insieme Per il resto della notte Ehi Ehi